State iniziando ora la vostra avventura come aspiranti re dei pirati? Vi rendete conto che partita dopo partita però c'è qualcosa che sbagliate ma non riuscite a comprendere cosa possa essere? Desiderate quindi comprendere quali siano le meccaniche di base per migliorare il vostro stile di gioco così da dire la vostra ad armi pari in un torneo locale? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Durante le numerose partite alle quali ho partecipato anche come semplice spettatore ho notato che sempre si sono svolte delle dinamiche di gioco silenti che hanno seguito un preciso percorso magari però non riportate sul regolamento di gioco o altro. Quelle che tratteremo oggi sono strategie semplici da ricordare ma che non essendo scritte o vengono tramandate dai veterani ai principianti o si celano dietro un velo di silenzio che verrà scoperto solamente attraverso l'esperienza. Ma non tutti purtroppo hanno la pazienza di impilare una serie di sconfitte che possono tornare utili per accumulare sufficiente esperienza e quindi in alcuni casi si molla il gioco vertendo verso altri TCG. In questo video quindi scopriremo attraverso 5 passaggi rapidi le varie strategie basilari utilizzate dai migliori corsari in circolazione così da mettere a disposizione di tutti coloro che stanno salpando in questo momento tali tecniche avanzate. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante, in questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme le 5 tecniche di gioco che miglioreranno la vostra esperienza ludica nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. È tutta questione di priorità. Quante volte vi siete ritrovati a giocare per prima cosa dei character sul terreno attaccando con il leader subito dopo? E quante volte avete subito gli event come Impact Wave o Red Hawk da parte dell'avversario che non solo hanno annullato un vostro assalto, ma allo stesso tempo hanno vanificato la presenza del vostro personaggio appena messo in gioco distruggendolo? Bene, la prima strategia che vi consiglio di provare sarà la seguente. Se possiederete già dei character in campo che potranno minacciare sufficientemente il leader di chi vi giocherà contro, attaccate con tutto ciò che sarà a vostra disposizione, leader compreso, prima di impiegare forze fresche dalla mano. Questo per salvaguardare le vostre risorse, che al contrario potranno essere bersaglio facile di event vari impiegati durante la fase counter rivale, o peggio distrutti o rimbalzati da qualche trigger innescato dalla pila delle vite nemiche. Ovviamente non sarà sempre così, ma conoscere questa dinamica di gioco vi farà spendere i don in modo più oculato, senza dare inutili vantaggi all'avversario. I don sono la risorsa. A volte però vi ritroverete a dover combattere con personaggi che rientreranno perfettamente nelle mire dei diversi effetti, come i jet pistol ad esempio. Ebbene, pensate alla risorsa principale del gioco, i don, non solo per impiegare carte dalla mano o a scopo offensivo, ma anche difensivo. Infatti se possiederete dei character con forza pari a 6.000, assegnandogli un singolo don li andrete a preservare da una distruzione che potrà mettervi i bastoni in mezzo alle ruote, impedendovi di portare a compimento la strategia messa a punto per quel turno di gioco. Magari una volta passata la mano all'avversario, quest'ultimo vi distruggerà comunque un personaggio attraverso jet pistol, ma fargli spendere 4 don invece che lasciargli giocare un event così potente gratuitamente non vi farà certo poi così male. Pensare a lungo raggio Attaccare va bene, ma se non riuscirete nell'intento di distruggere le difese avversarie, a difendere voi, chi ci penserà? Per questo motivo uno dei concetti di base di ogni TCG, e questo non fa eccezione, è sempre stato pensare anche alle difese oltre che alle offese. Lasciare un paio di don liberi, permettendovi di utilizzare un event dalla mano, di sicuro vi darà respiro, settando al meglio le giocate per il prossimo turno, riorganizzando la fase di attacco nel migliore dei modi. Certo è che non sarà sempre possibile farlo, ma nelle fasi finali di un match iniziare a ragionare in relazione alla fase difensiva, soprattutto quando non sarete certi di poter chiudere la partita in un determinato turno, vi potrà salvare da attacchi inaspettati che vedranno il collasso della vostra struttura di gioco. Pescare con la giusta esca Se avrete dei character presenti in campo per il principio del primo punto che abbiamo trattato, potrete effettuare attraverso degli attacchi calcolati quello che si chiama baiting, ovvero cercare di far sprecare risorse difensive all'avversario attraverso offensive che lo costringeranno a spendere carte dalla mano in fase di counter. Questo processo di controllo board il più delle volte servirà pensando al turno che vedrà difendervi, cercando di spaccare cose sul terreno avversario per non ritrovarsene contro quando quest'ultimo attaccherà. In più, corrodendo gli elementi dalla mano rivale, egli si vedrà con delle giocate ridotte da svolgere durante il proprio turno, lasciandovi più manovra di movimento che, a lungo andare, potrà vedervi uscire vittoriosi dell'incontro. Anche in fase difensiva, comunque, il bait potrà essere svolto. Bleffare lasciando un paio di donne aperti farà credere al vostro avversario che possiate avere un event pronto all'uso, anche se in realtà non sarà così. Cadendo nell'inganno, chi vi giocherà contro potrà decidere quindi di cambiare o la sua strategia offensiva risparmiandovi un attacco che sarebbe stato difficile da sopportare, o direttamente giocando più difensivo. In ogni caso, non illudetevi troppo. Se giocherete contro dei veri esperti, il bleff verrà scoperto attraverso l'utilizzo di altri bait che vi verranno scagliati addosso, vanificando ogni vostro tentativo di sopravvivenza. La miglior difesa è l'attacco. In diversi appuntamenti della Weekly Cup organizzata da Krios, link in descrizione, ho notato una cosa davvero strana, ma che in determinate occasioni ha lasciato di sasso chi se l'è vista giocare contro. Il concetto è il seguente. Non prendete in considerazione i blocker esclusivamente, come qualcosa da utilizzare in fase di difesa. Esse infatti potranno essere determinanti nel minacciare il leader rivale o addirittura per liberarsi di qualche caratter fastidioso presente sul campo avversario. Infatti non è stato affatto evento raro vedere attaccare dei blocker come Queen, Boa o Borsalino trasformando delle icone sacre appartenenti al lato blocker in ulteriori fonti offensive. Ciò mi ha lasciato di stucco, ma ragionandoci, soprattutto nelle fasi centrali o finali di un match, avere avuto una potenza di fuoco in più ha fatto la differenza, anche perché una volta utilizzata essa ha rappresentato un'occasione troppo ghiotta da parte dell'avversario per non essere presa in considerazione, concentrando tutta l'attenzione del rivale sulla presenza di quel blocker esaurito pronto per essere spaccato attraverso attacchi o altre fonti. E quindi, pensandoci bene, in un modo o nell'altro il caratter difensivo ha comunque assolto ai suoi compiti di blocker, deviando un assalto che altrimenti sarebbe stato diretto al leader. In più, ha comunque attaccato nel turno passato del suo possessore, mettendo pressione alle barriere rivali, magari togliendo di mezzo dei personaggi che gli avrebbero creato non pochi problemi durante il corso della partita. E così dopo aver scoperto assieme questo lato nascosto del gioco, vi invito a testare con i vostri amici, o meglio con giocatori veterani, tutti i punti appena descritti, così da avere un parere anche da parte loro accrascendo ancora di più il vostro tesoro di conoscenza. Se inizierete a mettere da subito in pratica questi cinque passaggi, la vostra esperienza ludica assumerà un aspetto del tutto diverso, permettendovi di giocare ogni partita che incontrerete nel migliore dei modi. Attraverso l'esperienza che accumulerete match dopo match, inoltre, inizierete a comprendere al meglio anche i vari aspetti pericolosi provenienti dai deck avversari, come i già menzionati Jet Pistol o Red Oak. Se giocherete contro dei mazzi rossi, Health Judgment appartenenti ai Viola, Impact Wave se affronterete la Marina e i Pan Gibson se vi ritroverete faccia a faccia con dei Verdi, riuscendo così ad agirci attorno, limitando il danno che potranno arrecarvi per la piena riuscita della vostra strategia di gioco. Salpate quindi verso i Sette Mari, portando con voi questo bagaglio di base che sono certo vi tornerà più che utile durante le varie sfide che affronterete per raggiungere il titolo più ambito, quello di Re dei Pirati. E voi eravate a conoscenza dei 5 punti che abbiamo trattato in questo contenuto? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.